musica 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 oggi io e Thomas facciamola solo per terra segnatevi queste parole vediamo se Thomas lo farà o no se non lo fa se non lo fa veramente la pussi se la faccio ti dico anche un'altra cosa ma subro subro musica adesso c'è un festival di tassica go oh 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 ho fatto bene non è che quando fai video non mi devi rispondere vuoi comunque parlare con me e guardarmi negli occhi e non attraverso lo schermo oh 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 si vede che non ci sono io scaricabile da tour e cosplay maggiori info sottranitalia.com nooo dai c'è una pitta ecco 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 sono arrivati sono arrivati ecco ecco e poi sei ahhhh aeeeeh buonzie la montadella per la più bella è vero cazzo è proprio mood il tour è finito